Allora, che cosa ne consegue, e concludo? Ne consegue che se noi continuiamo a dar retta a un esercio di shagurati che ci sta martellando la testa col fatto che se vogliamo cambiare la storia e il mondo dobbiamo prendercela con quattro marionette del potere, perdiamo tempo, sprechiamo le uniche risorse che abbiamo e non abbiamo nessuna speranza. La prima cosa da fare è imparare chi è il potere, perché se non sappiamo chi è non lo potremo mai combattere.